Benvenuto in questo video di presentazione del Business Ariks da Riccardo Di Gasparro. Allora, perché scegliere Ariks Italia? Entriamo subito nel vivo. Ariks è una truffa. Allora, fai molta attenzione a quello che sto per dirti perché sono tutte cose estremamente importanti. Allora, punto numero uno. Ariks è sicuramente un'azienda nuova in Italia, ma ha già 10 anni di esperienza sul mercato e un fatturato in costante crescita anno dopo anno che ad oggi si aggira attorno ai 300 milioni di dollari. Questo vuol dire che il business è sano. Punto numero due. Ariks è regolarmente registrata in Italia con una SRL. Anche questo è un punto molto importante per tantissime nuove aziende di network marketing che aprono in Italia. Questo è un punto dolente perché magari aprono la SRL dopo chissà quanto tempo. Per i distributori sicuramente non è un ottimo segnale. L'indirizzo attuale tra l'altro è visibile su Google, basta smanettare un attimo. Punto numero tre. Il piano marketing Ariks è in regola. È un altro punto estremamente importante per tutte le aziende che si mettono in testa di fare business in Italia. Non si può lavorare in Italia se non si ha un piano marketing in regola. Ariks lo ha sistemato praticamente fin da subito. Punto numero quattro. I prodotti Ariks in vendita sul mercato italiano sono stati tutti registrati. Questa è un'altra cosa fondamentale. Ariks non lancia prodotti sul mercato così alla come viene. Non vende prodotti a caso. Tutti i prodotti che trovate sui listini Ariks sono prodotti che sono stati regolarmente registrati. Punto numero cinque. Altra cosa molto importante. Le spedizioni. Oggi una qualsiasi azienda di network marketing deve essere ben strutturata anche da questo punto di vista. Quindi le spedizioni Ariks in Italia le fa DHL e abbiamo la possibilità di usufruire di una spedizione normale e una Express. Punto numero sei. Altra cosa molto importante. Ariks dopo pochi mesi dall'apertura si è impegnata ad aprire un magazzino in Italia per offrire un servizio sempre più performante ai distributori come ai clienti. Tantissime aziende di network marketing nel corso di tutti questi anni hanno aperto in Italia e solo dopo tot anni sono riuscite ad aprire un magazzino, sono riuscite a sistemare tutte queste cose. Pensate che Ariks dopo pochi mesi dall'apertura in Italia si era già messa all'opera per mettere in piedi appunto un magazzino e in effetti oggi c'è. Punto numero sette. Supporto e assistenza al distributore come ai clienti completamente in italiano. Altro punto dolente per la stragrande maggioranza di tutte le compagnie di network marketing che aprono la loro attività in Italia è proprio questo. Offrono un supporto e un'assistenza alla rete, magari solo in inglese, solo in spagnolo. Questo è sicuramente un punto debole. Ariks ha offerto il massimo dell'assistenza e del supporto a tutta la rete completamente in italiano. Punto numero otto. Materiali cartacei e video di supporto ai clienti e distributori disponibili in italiano come anche in altre lingue. Questo è un altro punto dolente per tutte le compagnie di network marketing nuove che decidono di fare business in Italia. Spesso e volentieri offrono soltanto materiali di supporto ai clienti e distributori in inglese o in spagnolo. Questo può essere ed è a tutti gli effetti uno svantaggio. Punto numero nove. Pagamenti in regola con fatture elettroniche. Anche questo è un punto importante. L'azienda paga regolarmente le tasse in Italia come ogni altra attività. Punto numero dieci. Miglior sistema di network marketing online esistente sul mercato mondiale. numeri alla mano duplicabile anche per nonna Peppina. Questa è una cosa fondamentale perché in tanti parlano di network marketing online e poi hanno sistemi quasi induplicabili. Tipo tutti i networker che parlano troppo di funnel contro funnel, devi diventare esperto di copy perché questa è roba che sicuramente funziona ma è induplicabile. Noi abbiamo il miglior sistema di network marketing online esistente sul mercato mondiale. Numeri alla mano. Punto numero undici. Concreta possibilità, esce in automatico, di costruire un business su scala mondiale grazie al sistema che abbiamo. Perché la scomoda verità è questa. Tutti ne parlano del fatto di poter fare network in tutto il pianeta. Però quasi nessuno, la verità è che quasi nessuno, ha la strumentazione adeguata per aprire il business all'estero e per aiutare la squadra a fare altrettanto. Questa è una scomoda verità. Punto numero dodici. Supporto concreto di una rete gigantesca pienamente operativa in tutta Europa. I numeri della rete Arix in Italia, tra l'altro, parlano chiaro. Attualmente fatturiamo oltre un milione di euro alla settimana. Questi sono numeri davvero importanti e chi è esperto del settore o comunque abbazzicato, diciamo così, nel mondo del network, riesce a capire un attimino che qui stiamo facendo cose veramente importanti. Punto numero tredici. Leadership esperta. Neanche a dirlo, i grandi mercati si mettono in piedi anche grazie a una leadership esperta. Puoi avere tutti i metodi che vuoi. Se poi al timone non c'è una leadership esperta, non si va da nessuna parte. Noi in Arix abbiamo anche questo. Punto numero quattordici. Questo è quello che dovrebbe farti addrizzare i capelli, le antenne, le orecchie, un po' tutto. Tutto sto ben di Dio, di cui abbiamo parlato, è addirittura in fase momentum. Arix è in piena fase momentum in tutta Europa. Se in soli 12 mesi, 12 mesi scarsi, siamo riusciti a realizzare tutto quello che hai sentito in questo video, prova ad immaginare cosa succederà tra 12 mesi, tra 24 e 48, quello che è. Non ci vuole un genio per capire cosa sta per accadere. Bene. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questo video. Come entrare nel team? Allora, hai tre possibilità. La prima è quella di contattare subito la persona che ti ha mostrato questo video. La seconda è di seguire le indicazioni che trovi qui sotto o sopra questo video, perché sicuramente lo piazzerò un po' da tutte le parti, Facebook, YouTube, insomma, controlla bene la descrizione di questo video che trovi o sopra o sotto e segui le indicazioni. O punto numero 3, invia una mail presentandoti a digasparrooffice-gmail.com e nel giro di 24-48 ore riceverai una risposta. Abbiamo finito, che dirti? Ti aspetto a bordo.